Finalmente è arrivato! Questo dovrebbe essere il casco che mi ha regalato l'SP il compleanno. No, no, non è il casco che vi farò vedere nel prossimo video. Bellissimo! Stessa colorazione delle tabelle portanumero per pulire la catena della moto. Ragazzi ho speso veramente poco, ho comprato da 24mx e il cavalletto è venuto 35 euro. 34,99 euro. Ciao! Cosa sarà mai? È arrivato dopo una settimana, no due settimane di attesa. Un'altra parte. Una mano. Vediamo cosa c'è in questo pacco. Cos'è questo pacco? Spiegami. Un regalo di compleanno. Un regalo di compleanno in ritardo di un mese. 24mx. Un regalo. Un regalo di compleanno. Un regalo di compleanno. Un regalo di compleanno. Lasciate un like a questo video Ciao 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 Mi piace particolarmente questo azzurrino Che è leggerissima Dovrei provarla La taglia è una L Perché comunque il primo casco della Scorpion era L Speriamo che la vestibilità sia la stessa Wow Ehi la Ciao Wow, gira gira Non mi vedo però Leggerissimo, leggerissimo Tadà È arrivato Che cosa abbiamo? Stai andando sulla Luna? Sì Questo video finisce qui Spero che il casco Questo video vi sia piaciuto In compagnia di Alessia Grazie per il regalo Prego Regalo di compleanno Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Condividete questo video Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao 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 Grazie a tutti.